Per quanto riguarda, visto che a rappresentare questa città c'è anche la Roma, abbiamo sentito Totti che ha detto che i giocatori devono avere più personalità. Pellegrini ha abbastanza personalità per restare capitano, secondo lei? Ma secondo me non va bene che questo giocatore entri in campo e viene sommerso di contestazioni. Non è giusto perché poi si perde in qualche modo, perdi la concentrazione. Deve tornare a essere il Pellegrini di qualche tempo fa che era forse un pochino più veloce, molto più reattivo, però per carità io non ce l'ho con lui. Io voglio che la mia squadra faccia il meglio possibile, forse ogni tanto l'allenatore è un po' lasciato un po' troppo solo, anche Iuric, come De Rossi, come Murino. Manca un anello di collegamento tra la proprietà e l'allenatore, non possono fare tutto questi allenatori. Però vediamo, non abbiamo giocato bene con il Venezia, però alla fine abbiamo vinto, avrà preso le contrui sul reato di allenatore e anche i giocatori. Parlando di giovani talenti, questo Pisilli, ragazzo romano e romanista, ti piace l'ultimo regalo di Daniele? Mi piace molto e insieme a lui mi piace molto Baldanzi. Secondo me in questo momento i migliori da Roma sono Baldanzi e Pisilli, i cambi che ha fatto all'ultimo. Grazie mille.